Allora eccoci, buongiorno, ci troviamo nella ricercata eccentalissima di Aluccoli, nel centro pieno di Genova e oggi abbiamo in visione un bellissimo appartamento di ampia metratura dotato di terrazzo al piano. Dall'ingresso a posto alle mie spalle, dotato di porta blindata, guadagniamo la zona giorno che è contraddistinta da una cucina a vista dalla quale si può accedere a uno dei punti forti della casa ovvero un rarissimo e spazioso terrazzo al piano dotato di esposizione solare totale e vista completamente aperta quella lassù in cima è spianata a castelletto sostanzialmente per davvi dei riferimenti. veramente, veramente, non raro, ma rarissimo terrazzo al piano riguadagniamo l'interno e ci portiamo nella zona notte incontrando la prima delle tre stanze a disposizione questa è attrezzata come palestra e qui, ora lo vediamo, possiamo apprezzare un altro dei punti forti della casa ovvero, anche qui, la vista aperta in questo caso siamo su Piazza Luccoli in alto abbiamo poi il Grattacielo ex Calise quindi siamo veramente nel centro di Genova ma senza nessun tipo di traffico veicolare andiamo a visionare la seconda e la terza camera che vi anticipo essere anch'essa di pianta assolutamente regolare e ben sfruttabili le quali hanno la stessa esposizione della camera che abbiamo visitato poc'anzi quindi seconda camera andiamo a vedere la terza da ultimo il bagno bagno completo dotato in questo caso di vasca finestra e termoarredo il riscaldamento è termo autonomo le spese di gestione sono relativamente contenute e qui direi anzi da ultimo vi faccio vedere anche quella che è sostanzialmente una dispensa e qui direi che la nostra visita si può concludere aspettandovi alla fondocasa San Fruttuoso di Via Giovanni Torti Otto Rosso la fondocasa Centro Storico di Vidi Scureria per qualsiasi informazione chiedendo di Cristian Lapietra grazie per l'attenzione